Un nuovo sito internet, un nuovo logo e i primi articoli scientifici. Dopo alcuni rallentamenti dovuti all'emergenza sanitaria, avanzano spediti i lavori per il Fano Marine Center. 51 ricercatori hanno iniziato a popolare gli edifici dell'Università di Bologna di Viale Adriatico, dove assiede il Laboratorio Congiunto per lo studio della biodiversità e delle biotecnologie marine. Proseguono anche i progetti dell'acquario e del rinnovo dell'edificio. Ci saranno otto vasche di volumi variabili tra i 2 e i 27, 30 mila litri per un totale circa di 60 metri cubi d'acqua. Si passerà da ambiente pelagico, ambiente costiero, si inizia con una vasca con le fanerogame, cavallucci, pesciago, poi si passa le meduse, coralligeno. Avremo una vasca tropicale che non era presente in passato e ci serve proprio per parlare dei problemi delle scogliere coralline, lo sbiancamento. Una piccola possibilità, una piccola finestra per guardare come sono fatti gli impianti dietro le quinte. E poi si procede con specie locali fino ad arrivare ad una vasca pelagica di 27 metri cubi, è grande, ha una finestra di 6 metri. L'obiettivo, ha proseguito la direttrice, sarà quello di avere pronto l'acquario per la prossima primavera. Intanto sono state realizzate alcune opere di messa in sicurezza e di regolamentazione degli accessi. Nel progetto Fanno Marine Center, tre laboratori di chimica, biologia e microscopia completamente attrezzati, con strumentazione all'avanguardia, ospitano i ricercatori dei 5 enti. La divulgazione e il coinvolgimento della cittadinanza e delle scuole sono assicurati dal Museo del Mare e dal Nuovo Acquario, che ospitano collezioni ed esposizioni specialmente focalizzate sulla biodiversità del mare adriatico. È un grande progetto, ha poi affermato il sindaco Massimo Seri. Questo, ha ricordato, è frutto dell'incontro tra tre università, due istituti di ricerca e il comune di Fano. E allora qual è il ruolo di un'amministrazione locale come il comune di Fano in questo contesto? Innanzitutto è quello di rafforzare il rapporto fra il centro di ricerca internazionale e il territorio, fondamentale per un cammino. Dall'altro garantire dei servizi che rendono la struttura sempre più funzionale, ma soprattutto aperta verso l'esterno. Perché fare ricerca non è solo sviluppo e progresso, ma è anche condivisione. E dal comune di Fano, dopo il lockdown, è arrivato il via libera ai lavori di ristrutturazione dell'edificio che consentiranno di bandire nei prossimi mesi le gare edilizie. Invece, prima dell'interruzione delle attività, sono stati attivati gli spazi dedicati alle riunioni e agli ambienti di lavoro condivisi per un totale di 50 postazioni utente su una superficie complessiva di 300 metri quadrati. Il contributo del CNR al Fano Marine Center si sta sviluppando attraverso numerose traiettorie di ricerca e di cooperazione. Tra queste, l'avvio di studi scientifici congiunti, alcuni dei quali hanno già prodotto pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali su temi molto attuali. Ad esempio, l'accumulo di sostanze inquinanti negli organismi marini, oppure lo studio del microbioma marino. Altri progetti in itinere riguardano la possibile attivazione di un master di primo livello sull'inquinamento della fascia marino-postiera ed in generale lo sviluppo di progettualità europee su temi rilevanti per la crescita blu nel mare Adriatico.